La nostra puntata è finita. Eeee... Eeeeeeeeee... Versiamo i peterni. A 160 gratteri, un goccio d'olio. Che non vedi Cesio? Vedi il suo olio? Ah! Allora, tutti... Vedi... Vedi... Bravo, bravo. Grazie. Bravo, Cesio. E tutti lo mangiano prima con gli occhi e poi con la bocca Cucinate Le nostre ricette nelle vostre cucine Oggi gli chef Riccardo e Cesare Di Nunno presentano un secondo piatto a base di carne Leggero e sfizioso Fagottini di vitello golosi con salsa all'aceto balsamico e miele Buona degustazione Buongiorno, benvenuti anche oggi per un'altra ricetta Vi prepareremo dei fagottini di vitello golosi ripieni all'aceto balsamico Sempre con il nostro amico Cesare Buongiorno Allora, procediamo mettendo tra due fogli di carta da forno le nostre fettine di vitello Sarebbe meglio utilizzare la parte della fesa che è molto più tenera Copriamo e con l'aiuto di un batticarne battiamo la nostra carne Questo procedimento lo faremo con tutte le nostre fettine Ok, una volta battute le nostre fettine di carne le saliamo Poco sale mi raccomando perché il ripieno è abbastanza gustoso Pepe E le mettiamo da parte Ora daremo una breve cottura ai nostri funghi Nella nostra padella mettiamo olio, uno spicchio d'aglio intero, un rametto di rosmarino Ci andiamo a mettere i nostri funghi Già tagliati a metà L'aglio e il rosmarino faranno il loro dovere, faranno scrigionare un profumo che insaporiranno i funghi Adesso ci mettiamo un po' di sale E saltiamo Quando i funghi sono pronti togliamo il rosmarino e l'aglio E lasciamo raffreddare Adesso al nostro composto di funghi ci aggiungiamo del prosciutto cotto Dobbiamo fare un battuto E ci aggiungiamo anche un pezzo di scamorza affumicata Bravo, bravo Grazie Adesso al nostro composto ci aggiungiamo i funghi Non versare un pezzo di cucchiaio Li tagliamo finemente Adesso amalgamiamo il nostro composto Posizioniamo la carne sul tagliere Ci mettiamo un po' di ripieno al centro Molliamo i nostri stampini E andremo a chiudere i nostri fagottini Uniamo i lembi E portiamo tutto al centro Fermiamo con due spuzzicadenti Ecco qua E mettiamo nello stampino Mettiamo i fagottini di vitello nello stampino di alluminio Solo per un semplice motivo Perché in questo modo il calore non va ad aggredire direttamente la carne E i suoi succhi rimangono all'interno concentrati In questo modo la carne rimane più umida e più tenera Prima di infornare metteremo del pan grattato E del parmigiano In modo tale da dargli una leggera doratura Quando andranno in forno Un po' di olio Pronti per essere messi in forno A 160 gradi per 8 minuti Nel frattempo Uniamo al nostro composto Dell'aceto balsamico 4 cucchiai di aceto balsamico Un cucchiaino di miele E dell'olio Un filo d'olio E frustriamo energicamente il tutto Questa salsina poi andrà ad accompagnare i nostri fagottini golosi Cesare siamo pronti? Prontissimi I nostri fagottini sono pronti Assembliamo il nostro piatto Allora alla base Mettiamo un po' di misticanza E posizioniamo i nostri fagottini Togliendo gli stuzzicadenti Ecco Poi le cipolline Poi le cipolline In agro dolce Andremo a condire il tutto Con la nostra salsa all'aceto balsamico Un goccio d'olio E infine posizioneremo Un fiore edule Per dare colore e bellezza al piatto Grazie Grazie Grazie